Uè, grandissimo, in riunione hai speccato soprattutto quando hai fatto quella battuta sulla figa Senti, ma adesso avrei questo colloquio con questa cliente misteriosa, nessuno mi vuol dire chi è Ma cos'è questo mistero? Ma chi ci sarà mai dietro quella porta? La marchi? Dai, tu sai chi è questa cliente? Me lo devi dire Ma figurati se mi lascio intimidire, non vedi come sono professionale che ho la giacca Ma va la testina, dai, ci vediamo dopo che io devo andare, dai Cosa faccio adesso? Non ce la farò mai con questa una cassa persa Uè Marco, non è che per caso hai bisogno di una cliente? No eh Ce la puoi fare, ce la puoi fare, amo il mio lavoro, accento di su, accento di su Amo il mio lavoro, amo il mio lavoro, amo il mio lavoro Sto aprendo tutti i chakra, anche la Ferragni ce la può fare Andiamo, ce la posso fare, ce la posso fare Ma buongiorno, salve Come la va signora Ferragni? Piacere, chi l'avrebbe mai detto di trovarla qui da noi eh? Che l'avrebbe mai detto, infatti Penso di non doverle neanche chiedere per quale motivo lei si trova qui Ma non si preoccupi signora, è in buone mani Sì, non si preoccupi Sicuramente si starà chiedendo perché sono stato assegnato proprio io All'incarico, infausto, di occuparmi della sua situazione e di risollevare un po' con le cose Il motivo è che Gesù Cristo era troppo impegnato e San Pietro ha detto no, questo è un incarico al di sopra delle mie possibilità Quindi hanno mandato me Dunque, sarò franco con lei, lei è nella merda Ma noi abbiamo lo spurgante, eh? La ricetta per risolvere la sua situazione ce la dà Arisa Sì, la cantante Sincerità Sì signora, bisogna dire la verità Parliamoci chiaro signora, questa storia dell'errore di comunicazione convince tanto quanto un bambino che dice di non essersela fatta addosso Quando il fettore arriva fino al primo piano E mi scusi se con l'esempio ritorno di nuovo la merda Ma cosa vuole che le dico? Mi sento ispirato dalla sua situazione Poi, onestamente, sono stata fraintesa anche meno Anche meno signora Se continua su questa strada le potrebbe andare a finire che poi i giornali la prendano per pagliaccio E questo noi non lo vogliamo Ma poi cosa va al tribunale a dire cosa davanti al giudice? Sono stata fraintesa, dai Le do una ricetta che con questa si riprenderà subito, eh subito, più o meno Diciamo che il tempo, come diceva Einstein, è relativo No, non era un poeta Lasciamo perdere Signora Ferragni, lei mi fa un bel annetto, eh, di silenzio stampa Niente stories su Instagram Niente tuta grigia Che tristezza quella tuta grigia, non si poteva vedere signora Per favore non rimetta più quella tuta, la butti, la dia qualcuno di povero Mastrota Al massimo tuta gold Mi scusi per riportarla alla memoria Sanremo, non era mia intenzione È stato un errore di comunicazione E mi fa un anno di silenzio come la monaca di Monza Se ne va in Inghilterra a imparare l'inglese come la d'urso Secondo lei la d'urso da chi l'ha presa l'idea? Ma ovvio, siamo stati noi Però per il suo caso l'Inghilterra è troppo vicina Vediamo un punto sulla mappa Questo è perfetto L'Australia O l'America Latina Quale preferisce? Si rilassa, va a zappare l'orto E poi vedrà che mi ringrazierà Non riconoscerà neanche più il cellulare dalla forma Non la convince In alternativa Un'altra strategia Potrebbe essere farsi suora Dalla colpa Al pentimento Tanto si sta pure separando Ha già i figli, cazzo Facevo così per dire Una soluzione temporanea Signora, me lo lasci dire Ma la sua situazione è veramente Ma veramente grave La terza ed ultima alternativa È la soluzione Michael Jackson No, non mi riferisco ad imparare il moonwalk Ovviamente Si tratterebbe di inscenare il suo funerale Già Di che colore preferisce il sarcofago? Faraona Andiamo per un classico blue and gold No, non mi riferisco ad imparare il suo funerale